Igeneservice è un'impresa di servizi ambientali specializzata in deratizzazioni, disinfestazioni, sanificazioni e disinfezioni ambientali eseguite con la massima professionalità e competenza. In occasione dell'inaugurazione della nuova Oglasa è stato consegnato l'assegno a Martina Bettoni, studentessa del Liceo Artistico Giovagnoli di Sansepolcro. L'autrice del logo vincitore dell'iniziativa disegna il futuro di Toremar e Toremar disegnerà il tuo, il progetto rivolto ai ragazzi dell'ultimo anno dei licei artistici e degli istituti di istruzione superiori e orientamento grafico della Toscana per ridisegnare il logo Toremar. La conchiglia è il giglio, la conchiglia come simbolo del mare e del rinnovamento e il giglio simbolo della terra e della Toscana. Questi i due elementi a cui ha fatto riferimento la giovane studentessa per disegnare il nuovo logo di Toremar. Questo gli ha permesso di vincere una borsa di studio che le permetterà di affrontare i suoi studi e proprio il caso di dire in tutta serenità. Il primo segno di cambiamento della Toremar è stato il concorso che abbiamo fatto, quindi volevo chiamare Martina che è timida ma è la vincitrice, possiamo fare un applauso a Martina? Ho unito due simboli della Toscana e quindi ho avuto l'idea di un luogo anche molto lineare che poi ho visto che è anche piaciuto molto. Grazie.